Qualsiasi cosa abbia scelto e lui anche, comunque mi giravo e lui stava sempre là. Questo, che ti devo dire, cioè dici siete separati con, come ci si separa da un'anima? Ci si può separare da un corpo, ma da un'anima non ci si separa mai. Mi sembra che stai quasi cambiando idea, come se... Ma no, ma non sono una pazza, non è che sto cambiando idea, ti sto dicendo che è impossibile separarsi. Davvero. Che ci sono tante coppie che si separano, ma che rimangono unite anche dopo, quando cambiano delle dinamiche. Io in questo momento, che ti devo dire, vai, lo sai, chi mi ha telefonato prima di entrare qua? Paolo. Quindi, che dobbiamo dire? Cioè, siamo amicissimi, siamo confidenti, siamo vicini, tu dici vi rinnamorerete? Eh, che vuol dirlo? A oggi, ripeto, non ci sono ostacoli perché possa riaccadere. In questo momento ci stiamo, ci stiamo ristudiando da separati. Grazie. 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 Grazie.